Presidente regionale di Ampas, Andrea Bonizzoli, per parlare dei tagli alla sanità e al momento anche difficile che stanno vivendo i volontari dell'Ampas. Qual è la situazione? Per la prima volta, dopo nella nostra storia ultracentenaria, ci vedete e ci vedrete questa mattina a sfilare per Torino per manifestare tutta la nostra preoccupazione, il nostro disaccordo. È da mesi che ormai chiediamo un incontro con l'assessore e con il presidente della regione Cota per poter discutere e parlare di quello che è il piano di riorganizzazione del servizio di emergenza-urgenza e in generale dei servizi di trasporti sanitari, che noi come associazione di volontariato svolgiamo in maniera preponente. In Piemonte siamo Ampas, scopre l'oltre il 50% dei servizi a mezzo ambulanza e quindi chiediamo di essere ascoltati. In questi poi mesi abbiamo anche avuto difficoltà da parte delle aziende ad avere i pagamenti e di lunedì sera un incontro con il direttore generale della Città della Salute che ci ha assicurato che entro novembre recupereranno tutto l'arretrato e si riporteranno in pari con i pagamenti. Le nostre, dobbiamo ricordarlo, sono associazioni di volontariato, quindi in cui i cittadini prestano opera volontaria e gratuita a servizio della collettività. Quanti sono i volontari coinvolti in queste situazioni e dopo quale sarà il vostro percorso per andare alla regione? Allora, i volontari di Ampas piemontesi sono 9 mila. Oggi qua saremo un 200, una rappresentanza, perché non dobbiamo dimenticare che oggi in tutta la regione Piemonte non c'è stata interruzione di servizi, quindi questo non è uno sciopero ma è un manifestare. Quindi abbiamo 200 volontari, 60 ambulanze che sfileranno per la Città di Torino.